Dopo anni di segni meno la profonda fase recessiva che ha investito l'Abruzzo, nel 2015 si è arrestata, anche se permangono elementi di forte preoccupazione per l'economia della nostra regione. A dirgli il rapporto l'economia in Abruzzo a cura della Banca d'Italia, illustrato oggi in un convegno all'auditorium di Renzo Piano all'Aquila. La ripresa, si legge nel rapporto, è stata sostenuta principalmente dal buon andamento della produzione nell'industria, più 4-8%, trainata dalla crescita agli ordinativi sia dall'estero che sul mercato interno. In particolare l'attività produttiva ha mostrato una vivace espansione nel comparto dei mezzi di trasporto, più 14,9. Le imprese di grandi dimensioni del manifatturiero hanno registrato incrementi della produzione, nettamente superiori rispetto alle piccole e medie imprese. Segnali positivi anche nel mercato immobiliare e dunque nel settore dell'edilizia, visto che il numero di compravendite in calo da alcuni anni è tornato a crescere del 7,2%. Inoltre il numero degli occupati, marcato calo nel bienno precedente, ha registrato un moderato incremento dello 0,6% e al vivace recupero del primo semestre tuttavia seguite una nuova flessione a partire alla seconda metà dell'anno e rimane ancora elevato il tasso di disoccupazione, pari al 12,6%. Emerge che innanzitutto c'è stato un cambio di passo dell'economia, nel senso che dopo anni di contrazione finalmente vediamo segni più davanti a tutti i parametri più significativi, dal PIL innanzitutto alla produzione industriale, all'occupazione, al credito anche e persino nel campo delle costruzioni, cioè quello che era il settore più disastrato, diciamo così, c'è finalmente un segno positivo. Questo è sicuramente un fatto positivo. Scorporando infine i dati complessivi su squala regionale si osserva che ad alzare la media in modo decisivo di produzione, export e occupazione sono solo alcune aree e alcuni settori, in primis il polo industriale della Val di Sangro dove la Sevele e il suo indotto macina numeri da record. In altri territori invece la fine della crisi non la si vede nemmeno con il binocolo. Quelli che tirano la volata diciamo sono le grandi imprese e mentre le piccole imprese faticano. Quali grandi imprese? Beh innanzitutto quella del Sangro Teatino, la Sevele che è quella che traina praticamente tutta l'economia abruzzese e anche con esportazioni di notevole peso. Certo questo è un fatto vero che bisogna mettere a fuoco cercando di arrivare a una distribuzione più più lata del discorso.